ben ritrovati da fabio camillacci terzo e ultimo capitolo di crimine criminologia vedete il titolo il momento della galleria degli orrori e ovviamente come sempre ci ha raggiunto in studio il professor marino d'amore bentornato buonasera grazie per l'invito sociologo della comunicazione all'università nicolò cusano e criminologo nella veste di criminologo racconta dall'inizio di crimine criminologia le storie di serial killer ne abbiamo trattati veramente tantissimi uno a puntata e le precedenti puntate ovviamente le trovate sul canale youtube di cusano italia tv oggi è il giorno di vladislav mazurkiewicz il fantasma di cracovia e direi professor d'amore in clima atmosfera da halloween c'è ci stava bene no un fantasma anche se non è proprio un fantasma mazurkiewicz ora capiremo perché anche perché è passato la storia anche come gentleman murderer nato a cracovia il 31 gennaio 1911 morto sempre a cracovia il 31 gennaio 1957 è stato un assassino seriale polacco tra i più efferati nella storia del crimine della polonia ha commesso almeno 30 omicidi forse anche di più particolarità non si conosce nulla della sua infanzia almeno io non ho trovato fonte non so se professor d'amore ha delle fonti sull'infanzia di mazurkiewicz non ce ne sono non ce ne sono non non ci sono fonti che ti descrivano come ha passato l'infanzia in quale tipo di famiglia è cresciuto che tipo di estrazione sociale avesse abbiamo solo la certezza che effettivamente quella che ostentava invece era un'estrazione sociale molto elevata insomma appariva come un nobiluomo aveva grandi proprietà appartamenti ville che gestiva e che doveva mantenere con un notevole sborso di danaro e ovviamente questo danaro soprattutto nel periodo della guerra quando non poteva essere più sostenuto da attività lecite poi verrà sostenuto dalla sua carriera criminale peraltro ci sono anche pochissime foto che lo riguardano anche se poi è stato processato e condannato a morte negli anni 50 quando poi si è venuto a sapere quelli che erano stati i suoi orribili crimini qualche foto ve la stiamo proponendo grazie alla regia di federico aielli ma questo è anche a testimonianza che la galleria degli orrori non tratta soltanto serial killer mediaticamente famosi no vogliamo sottolinearlo stiamo a scovare grazie a lei al suo lavoro di ricerca anche serial killer un po' sconosciuti sì decisamente siamo anche andati nell'ottocento usando una una metafora di tipo comunicativo non è un serial killer mainstream nel senso che non è così famoso e soprattutto non è così mediatizzato come come altri come altri serial killer che invece hanno avuto una grossa ego anche mediatica nonché cinematografica e letteraria però in polonia è molto famoso è molto famoso per per tanti motivi il primo perché come vediamo dalla foto appare come un uomo estremamente elegante sia nei modi che nel vestiario nell'abbigliamento e soprattutto e qua lo iscrive direttamente nella categoria degli insospettabili era un uomo ben voluto dalla sua comunità nessuno avrebbe sospettato che in verità la sua vera attività era quella di uccidere delle persone per appropriarsi dei loro danari dei loro averi e poter condurre quella vita che ostentava con così tanto con così tanto vigore veniva chiamato addirittura l'ingegnere nonostante non lo fosse perché per un periodo soprattutto dopo la guerra insegnava ha lavorato per una sorta di autoscuola a cracovia insegnava le persone faceva gli esami per la patente ecco e quando la prima volta l'hanno chiamato ingegnere lui non ha smentito l'avventore riguardo al suo titolo e da quel momento è diventato anche ingegnere quindi una persona che soprattutto grazie a questo aspetto ripeto ha vissuto più vite all'interno della stessa perché lui inizia con un'attività lecita lui eredita dal papà una tipografia e per i primi momenti in cui gestisce questa attività le cose vanno anche abbastanza bene fino a quando scoppia la seconda guerra mondiale e ovviamente gli affari cadono vanno in declino in maniera abbastanza repentina e quindi lui deve reinventarsi una propria attività assolutamente e forse anche di più remunerativa da questo punto di vista e decide quindi di avviare la sua carriera criminale che si contestualizza all'interno di una serializzazione omicidiaria non particolarmente efferata dopo vedremo il modus operandi che però miete tante vite ecco prontamente la regia ci sta facendo vedere immagini legate alla seconda guerra mondiale nello specifico all'occupazione della polonia da parte della germania nazista di adolf hitler quella la scintilla che portò lo scoppio del conflitto il primo settembre 1939 e infatti la lunga scia di sangue di mazzurkiewicz comincia proprio nel 1940 quindi quando in quella fase storica diciamo la germania del terzo reich era all'apice a proposito di seconda guerra mondiale e lui poi lo vedremo avrà a che fare anche con la gestapo e con i nazisti e lui utilizza molto bene il suo carisma il suo fascino non solo con le donne anche con gli uomini non per una per situazioni o relazioni di tipo sentimentale ma perché riesce a farsi degli amici anche all'interno della gestapo e questo tipo di collusione coprirà quella che è la sua seconda vita quella criminale davvero come giustamente ha sottolineato lei quando comincia a uccidere oltre a essere già un insospettabile come abbiamo detto prima quando qualche sospetto qualche indagine si dirige verso la sua persona viene immediatamente deviata proprio grazie a quelle conoscenze la prima volta che rischierà davvero grosso sarà nel 1945 quando la sua macchina ha un guasto e all'interno della macchina c'è un cadavere e dei contadini lo aiutano a riparare la macchina per poi ripartire ma questi contadini si accorgono che c'è qualcosa di strano all'interno della macchina avvertono le autorità in quel momento ovviamente siamo nel 1945 non c'è più la gestapo c'è la polizia stalinista che riesce anche in quel caso a essere una sorta di alleata perché diventa amico anche di esponenti della polizia stalinista regalando delle costose bottiglie di vodka e anche quel momento lì che poteva essere l'ultimo momento della sua carriera omicidiaria viene gettato nel dimenticatoio perché grazie a quei favori e a quei regali la polizia riesce a deviare le indagini e a far sì che lui esca da questa vicenda assolutamente immacolato e dalle parole del professor d'amore abbiamo capito che ci sono dei punti in comune tra questo serial killer e altri che abbiamo trattato in passato insospettabili persone ben volute che poi si rivelano mostri e anche l'altro aspetto il momento economico sì sì abbiamo già parlato di se ritorna spesso a scopo di lucro il primo è stato ernesto picchioni poi c'è stato all'andrù insomma non in ordine di tempo ma in ordine di narrazione di quelle che abbiamo trattato di narrazione all'interno di questa trasmissione ce ne sono stati diversi alcuni più efferati di altri lui invece come dicevo prima incomincia tra virgolette in un modo utilizzando un modus operandi quasi sobrio se vogliamo ovviamente in un'accezione drammatica e sanguinaria perché inizia ad avvelenare le sue vittime prima con il cianuro all'interno del tè insomma le vittime le invita nelle proprie abitazioni nelle proprie ville e servendo in un momento normalmente conviviale servendo una tazza di tè da una tazza piena di cianuro e le vittime ovviamente muoiono quasi all'istante e lo fa torniamo anche alla famosa serial killer in abito da sposa esatto la vigna fisher la vigna fisher assolutamente sì oppure con del cibo magari trattava il prosciutto con del veleno e poi serviva dei panini che gli astanti consumavano e poi anche in quel caso ce n'è uno che si salva un esponente della della polizia polacca che si stava nascondendo era clandestino alla fine della guerra lui gli serve questo panino con il prosciutto ma la porzione di veleno non riesce ad uccidere l'ex poliziotto lui capisce di essere stato avvelenato ma non lo denuncia proprio in virtù di quei suoi legami con l'establishment del tempo in quel momento la gestapo e anche dopo quando avrà l'occasione di testimoniare contro di lui non lo farà per la stessa paura prima abbiamo visto delle foto legate alla gestapo se non ho visto male ce n'è una anche con il boia di praga haidrisch non questa l'altra ma eccolo qua prima fila è lui haidrisch e a proposito poi di quella che era l'attività il modus operandi soprattutto di mazzurkiewicz dobbiamo dire visto che per lui era fondamentale lo chiamiamo un movente economico oppure serial killer a scopo di lucro non faceva distinzioni quindi non aveva una vittima prediletta più un uomo che una donna o viceversa ha ucciso uomini e donne in maniera indifferente è completamente assente la parafilia sessuale in questo senso non c'è nemmeno la misoginia anzi c'è però un evidente come abbiamo riscontrato in tantissimi altri casi analfabetismo emotivo e mancanza di empatia tanto è vero che quando poi testimonierà il processo e questo è un particolare assolutamente importante che evidenzia questo ultimo concetto non ricorderà i nomi delle sue vittime ma ricorderà assolutamente tutti i dettagli di quelle uccisioni e questo è assolutamente indicativo rispetto al fatto che c'è una sorta di spersonalizzazione e di oggettivazione delle vittime stesse che in quel momento per lui rappresentavano solo dei danni collaterali che funzionavano come impedimenti al raggiungimento del suo obiettivo che era quello di arricchire anche perché anche una volta raggiunto una sorta di situazione esistenziale soprattutto economica benestante lui non si accontenta mai vuole sempre più ricchezze e quindi aumenteranno anche in quel senso il numero degli omicidi e le volte in cui rischierà ovviamente di essere catturato e sì lo stile di vita lo portava a uccidere l'abbiamo detto uno stile di vita sontuoso possedeva delle case lussuose a Cracovia ma dove viveva ma anche a Varsavia e si vestiva in modo elegante l'abbiamo detto aveva dei modi gentili di fare veniva descritto come un uomo ricco intelligente che frequentava buoni hotel e locali del modus operandi abbiamo parlato c'era questo modus operandi ma in qualche occasione ha usato anche una pistola questa è la cosa strana questo è un altro paradosso che si scrive nel mistero di questa vicenda il fatto che il modus operandi solitamente rappresenta la firma la cifra identitaria di ogni serial killer che lo riconosce rispetto agli altri invece mazurkiewicz cambia passa dall'avvelenamento a possiamo dire quasi l'esecuzione perché passa all'utilizzo di armi da fuoco che ovviamente utilizza contro le sue vittime sparandole alla nuca quindi come se fosse una vera e propria esecuzione come qui torniamo a proposito di seconda guerra mondiale le foste ardiative l'esecuzione non solo anche i campi di concentramento un atteggiamento cioè un'uccisione da nazista sì è anche vero che però molte volte li uccide in condizioni di incoscienza o se si sono addormentati in un particolare momento oppure prima li fa addormentare con delle sostanze e poi come dire spara alla testa dei poveri malcapitati questa è un'evenienza è una circostanza molto particolare perché non è affatto comune che un serial killer ovviamente per circostanze e contingenze dovute al momento cambi in maniera così repentina in maniera così diametralmente opposta il modus operandi che non lo rende riconoscibile poi rispetto al superato precedente ma soprattutto rispetto agli altri serial killer certamente è chiaro e questo modus operandi cambia e questo è un po' sembra come che abbia ereditato diciamo l'atteggiamento della Gestapo e dei nazisti durante la seconda guerra mondiale e cambia soprattutto alla fine dell'occupazione nazista della Polonia soprattutto poi quando effettivamente date le ristrettezze economiche in cui versava tutto il paese tutta la Polonia e non poteva più procurarsi il veleno decide di utilizzare un metodo più sbrigativo viene in possesso di una piccola pistola che era in dotazione alla polizia polacca una Walter e la utilizza per uccidere le sue vittime anche in questo senso subentra il problema di sbarazzarsi dei corpi e in questo ci viene aiuto un altro elemento di cui abbiamo parlato tante volte alcuni verranno seppelliti all'interno delle sue proprietà tant'è vero che due corpi verranno ritrovati nel pavimento di una sua villa e rappresenteranno un po' il nucleo centrale del castello accusatorio nei suoi confronti altri invece vengono gettati nel fiume Vistola che scorre nei pressi di Cracovia l'elemento fiume che continua a ripresentarsi all'interno delle nostre narrazioni e dei nostri racconti e tempestivamente Federico Ieli dalla seconda guerra mondiale al fiume Vistola che vediamo proprio in questo filmato prima invece immagini terribili di quella che fu l'occupazione della Polonia e la seconda guerra mondiale andiamo però al secondo dopo guerra perché avviene un fatto particolare strano c'è un sopravvissuto e un sopravvissuto in maniera veramente singolare il 26 settembre 1955 cosa accade? accade che un signore, un tale Lipulski, si presenta in ospedale con una forte emicrania lui racconta solo o almeno quello che ricorda, dice di essersi addormentato perché era stanco dopo la giornata lavorativa, di essersi risvegliato con questo grandissimo mal di testa allora i medici fanno dei raggi X al cranio di questa persona e trovano un proiettile conficcato nel cranio era quella la causa del mal di testa? era quella la causa del mal di testa un proiettile che effettivamente è riconducibile alla pistola che era in dotazione alla polizia polare questo è quello che noi chiamiamo, possiamo definire sempre il punto di non ritorno perché fa confluire tutte le indagini e soprattutto tutti i sospetti sulla figura di Mazzurkiewicz perché effettivamente il protagonista di questo episodio racconta come aveva trascorso le ultime ore prima di questo grande mal di testa lui si trovava a Cracovia, ero entrato in contatto con un tale, non rivela il nome dice solo che era soprannominato l'ingegnere, ecco perché prima avevo raccontato questa circostanza e devono portare un affare in porto, cioè hanno degli orologi da vendere quindi lui affida questi orologi a Mazzurkiewicz Mazzurkiewicz gli dice in primo momento che glieli pagherà poi improvvisamente dice che non ha più soldi però in cambio gli regala la sua macchina con una sola condizione gli chiede di accompagnarlo a casa anzi si offre di guidare lui mentre stanno guidando il povero malcapitato si addormenta durante il viaggio e Mazzurkiewicz gli spara credendo che fosse morto lo lascia da solo in macchina ma purtroppo per lui ovviamente si risveglia si rega all'ospedale e da lì ricomincerà tutto quello che era stato messo sotto silenzio prima ossia tutto il castello accusatorio nei confronti di Mazzurkiewicz è chiaro che tutto poi viene alla luce dopo la fine della seconda guerra mondiale perché durante il conflitto c'erano altre situazioni che hanno consentito a Mazzurkiewicz ovviamente di farla franca invece da quel momento ne abbiamo raccontati tanti di questi ogors of Max Guffler che insomma hanno utilizzato anche in maniera strumentale la seconda guerra mondiale insomma una delle più grandi tragedie della storia dell'umanità grazie al suo fragore, alla sua deflagrazione anche mediatica non solo sociale hanno coperto un po' quelle che invece erano le loro azioni omicidiali e infatti e invece dopo l'episodio che ci ha raccontato il professor Marino Gamore le indagini migliorano nei confronti di questo serial killer le indagini migliorano perché effettivamente si risale alla figura di Mazzurkiewicz viene ordinata una perquisizione nelle sue proprietà e effettivamente come dicevo prima vengono trovati questi corpi seppelliti nel pavimento di una delle ville due corpi da quel momento lui viene arrestato viene posto sotto interrogatorio e verrà difeso da un avvocato un principe del foro un tale Ostrowski che ha una carriera assolutamente invidiabile e a cui questo caso può portare solo dei danni di professionali ma lui crede talmente nell'innocenza di Mazzurkiewicz che si offre una volta che scopre che effettivamente Mazzurkiewicz è l'autore di questi omicidi cerca di giocare d'anticipo nel senso rivela che effettivamente il suo assistito è un assassino però che non può essere condannato a morte perché va contro l'etica nazionale della Polonia in quel periodo ovviamente questa sorta di raccomandazione e richiesta sotto intesa di clemenza della Corte non avrà effetto sui giudici ricordiamo dal punto di vista storico poi la Polonia era passata dall'occupazione nazista all'occupazione stalinista se vogliamo perché faceva parte del patto di Varsavia dopo la fine della seconda guerra mondiale era sotto proprio l'orbita di Mosca e quindi cambiano gli scenari ma siamo sempre sotto un regime eppure questa volta si va a far luce su non viene coperto anche se aveva dei rapporti con la polizia e altri esponenti del regime anzi viene fatto un lavoro di tra virgolette propaganda inverso nel senso che una volta che viene scoperto che effettivamente lui è l'assassino dopo le prime collusioni che lui aveva avuto con la polizia stalinista e che quindi avevano coperto il suo operato la polizia stalinista dice che effettivamente la sua azione amicidiaria e soprattutto il personaggio che in quel momento rappresenta è figlio della società borghese malata che era figlio a sua volta del precedente regime quindi si dissocia completamente da qualunque tipo di relazione di contatto con Mazzurkiewicz e lo lascia solo come lo lasciano solo tutte le persone che lo avevano sostenuto in quel momento anche l'ex moglie che nonostante avesse divorziato continuerà ad amarlo fino agli ultimi suoi momenti Ricordo fu arrestato nel 1956 la polizia lo accusò di almeno 30 omicidi e lui in carcere confessò tutto dicendo sì è vero due cadaveri ci ha detto il professor D'Amore scoperti sotto il pavimento di un garage in affitto altri due gettati nel fiume Vistola fiume che abbiamo visto che bagna Cracovia e Varsavia e un altro fu occultato nel profondo di una foresta vicina alla località di Liscami ma sono 30 le vittime quelle accertate diciamo che quelle ufficiali per la legge sono 6 soltanto 6 ne mancano 24 all'appello forse anche di più considerando il periodo se è ipotizzabile pensare che se ne mancano 24 quantomeno al conteggio fatto da un'analisi legata alle fonti legate alle circostanze di quel periodo molto probabilmente potessero essere ancora di più ma ovviamente questo non c'è nessuna certezza probatoria che ce lo può certificare lui comunque ammette tutto ci ha detto non ricordo i nomi delle vittime però ricordava i particolari fa una scelta precisa in questo senso lui avrebbe potuto appellarsi all'infermità mentale anche sul consiglio del suo avvocato ma decide scientemente di non farlo in maniera consapevole si attribuisce l'autorialità completa di tutti gli omicidi a una sola richiesta quella di vedere prima di essere giustiziato la madre adottiva che lo aveva allevato quando era piccolo ecco forse questo è l'unico elemento che sappiamo della sua infanzia dell'infanzia no? il fatto che lui avesse una madre adottiva quindi avendo una madre adottiva molto probabilmente anche in questo caso è solo un'ipotesi possiamo pensare che provenisse da una famiglia problematica dopo questo colloquio con la madre adottiva si affida al boia e al patibolo con l'eleganza e l'ostentazione quasi nobile che aveva mostrato fino a quel momento e anche lui come Lavinia Fischer dirà una piccola frase agli astanti a coloro che erano presenti durante l'osecuzione che imprimerà a fuoco nell'immaginario popolare la sua figura anche dopo la sua morte e infatti quelle parole furono addio signori presto ci incontreremo lì molto simili a quelle di Lavinia Fischer eh sì molto simili infatti nel preparare il caso me lo ha fatto tornare alla memoria quindi nell'estate del 1956 si apre il processo a Marzurkiewicz e poi eh questo ebbe luogo nel tribunale distrittuale di Cracovia il processo terminò il 30 agosto del 56 così come volle il giudice fu condannato a morte tramite impiccagione per soli sei omicidi come ci ha detto il professor D'Amore ai danni di quattro uomini e due donne ci furono anche due tentati omicidi ecco durante le udienze i testimoni ebbero paura di parlare sì ebbero paura di parlare perché effettivamente fino all'ultimo Marzurkiewicz rappresenta una sorta di figura potente perché è legato al potere o almeno la gente pensa che lui sia stato legato prima alla Gestapo e ora alla polizia salinista quindi anche l'ex poliziotto avvelenato o coloro che avevano visto qualcosa di strano decidono di tacere per paura di qualche ritorzione ovviamente questo non basterà a salvarlo perché come abbiamo detto verrà impiccato e affiderà la sua vicenda anche in questo caso a una mediatizzazione discreta perché molti degli elementi che noi conosciamo su questa vicenda vengono proprio da un libro pubblicato nel 2014 che si intitola proprio L'assassino gentiluomo e che parla della vicenda di Marzurkiewicz Ecco perché Gentleman Mardurer abbiamo ricordato all'inizio altro soprannome oltre al fantasma di Ferragobia Il fantasma di Ferragobia mi consenta, scusia l'interrompo è legato invece a un fatto anche questo mediatico perché durante il processo c'è un giornale che pubblica una fotografia di Marzurkiewicz in una posa molto particolare, quasi assente che lo fa associare a quella di un fantasma e da là partirà poi il soprannome del fantasma di Cracovia che poi, come dire, anche esso entrerà a pieno titolo nell'immaginario popolare E poi ci sta anche a livello, diciamo, no per tanti anni ha colpito senza essere preso e quindi si colpiva come un fantasma in qualche modo era un fantasma ai tempi dell'occupazione nazista della Polonia così come ai tempi della guerra fredda con l'Unione Sovietica a capo del gruppo di paesi dell'Est Europa Ecco, per andare alle conclusioni aggiungiamo che l'avvocato della difesa tentò di difenderlo dicendo che era un assassino nato che la pena di morte andava contro l'ideologia ufficiale di Stato Sivo Ciferò, l'abbiamo detto, che il killer fosse una spia legata ad alcuni ufficiali della Gestapo sicuramente pagò anche questo aspetto, no? A livello politico A livello politico pagò questo aspetto soprattutto nel secondo momento quando nel 1945 fu costretto a coprire come dire, il suo errore richiedere aiuto a quei contadini che avevano notato qualcosa di strano nella sua macchina portando intere casse di vodka di altissima qualità alla polizia stalinista che bastò a far passare sotto silenzio quel tipo di vicenda quando poi effettivamente fu riconosciuto come colpevole come dicevo, ci fu un diktat da questo punto di vista un obbligo a dissociarsi completamente e a cercare di contestualizzare e caratterizzare il personaggio come un figlio del precedente regime in modo che quello nuovo avrebbe rappresentato nei loro intenti come volevano appunto una sorta di ventata di novità all'interno di una nuova visione del mondo che poi, come sappiamo con la guerra fredda avrebbe diviso il mondo in due blocchi ricordiamo, noi parliamo di polizia stalinista perché comunque era l'unione sovietica di Stalin e poi di Khrushchev Stalin però era morto nel 1953 quindi in questo periodo che stiamo trattando c'era già Khrushchev al Cremlino che poi portò avanti la famosa destalinizzazione sul fatto che fosse però nelle prime fasi ancora era molto presente la stalinizzazione per far capire era comunque un regime assolutamente sovietico voluto fortemente da Stalin quindi è chiaro che siamo in quell'ottica era per precisare a livello di date assolutamente ho fatto benissimo e poi per il fatto che fosse una spia sì sicuramente ha avuto dei rapporti con la polizia nazista perché che in qualche modo ha cercato di corromperla per fare quello che ha fatto però l'aspetto della spia no secondo molti storici non si sono trovati documenti che hanno non ci sono avuto dei rapporti ma non era una spia no c'è stata anche un'altra versione di questa storia il fatto che lui aiutasse la Gestapo a trovare gli ebrei insomma fosse un delatore in questo senso perché c'è il fatto se me lo conferma la prima vittima è un ebreo sì la prima vittima di Mazzurkiewicz ecco perché questa evenienza bastò a far sì che nascesse questa sorta di leggenda metropolitana che poi ovviamente non è stata suffragata da alcun tipo di prova e infatti e corse la voce anche che lavorasse col Ministero della Pubblica Sicurezza da cui si riteneva fosse protetto comunque la condanna a morte fu eseguita nel carcere di via Montelupic a Cracovia il 31 gennaio 1957 alle ore 16 e 30 aveva esattamente 46 anni Mazzurkiewicz le ultime parole le abbiamo dette addio signori presto ci incontreremo lì per chiudere ci ha già tracciato un profilo di Mazzurkiewicz che poi ritorna in tanti altri serial killer di quel periodo che abbiamo trattato però personaggi del genere che diciamo non hanno motivi ecco parafilia sessuale uccidono perché hanno bisogno di denaro cioè sanno che togliendo denaro agli altri si arricchiscono e quindi uscidono le vittime sono solo dei danni collaterali rispetto al raggiungimento del proprio obiettivo degli impedimenti circostanziali che devono essere eliminati sono sicuramente degli incompetenti sociali che non sanno attualizzare una relazione sociale degna di questo nome quindi sono come dicevo prima degli analfabeti emotivi prima di qualsiasi empatia di empatia scusate ricchi di quella che possiamo definire anaffettività perché non c'è nessuna pietà per le proprie vittime all'interno di questa categoria ovviamente abbiamo diversi gradi di efferatezza in questo caso come dicevo prima c'è un'efferatezza ridotta al minimo non c'è il gusto del sangue o dell'uccisione particolarmente violenta si uccideva col veleno inizialmente il fatto però che lui non ricordi i nomi delle sue vittime nonostante siano così tante e lui non ne ricordi nemmeno uno è indicativo del fatto che effettivamente subisce all'interno della sua psiche tutto il processo una sorta di oggettivazione della vittima la vittima diventa un oggetto e che quindi inutile che deve essere eliminato anzi non solo inutile ma anche particolarmente critico e difficoltoso nel raggiungimento di quello che era l'appropriazione e soprattutto l'ostentazione di quella ricchezza che aveva avuto per così tanto tempo e che non gli bastava mai questa è diciamo così una sorta di profilo psicologico che possiamo fare la cosa che conferma tutto questo è l'atteggiamento che lui ha durante il processo la foto che abbiamo visto è proprio quella del processo innanzitutto cominciamo col dire che lui in quel momento ha 46 anni sembra molto più grande anche i testimoni le persone che erano presenti al processo diranno che Mazzurkiewicz aveva durante il processo lo stesso atteggiamento che aveva nella vita una sola differenza aveva il viso un po' più scavato forse dovuto alla permanenza in carcere di quel periodo questa è la foto a cui mi riferivo quasi disinteressato assolutamente disinteressato assolutamente disinteressato e soprattutto senza la volontà di negare nulla per lui in quel momento il processo era una sorta di perdita di tempo perché lui aveva ammesso tutto aveva rivendicato la responsabilità di tutti gli omicidi e accettato anche la condanna a morte rifiutando la semi-infermità mentale che gli aveva proposto l'avvocato l'unica condizione quella che poi gli è stata accordata di salutare per l'ultima volta la sua madre adottiva forse davvero l'unico affetto della sua vita e siamo giunti al termine di crimine e criminologia di oggi e ovviamente di questo capitolo della galleria degli orrori in tema di Halloween ho detto abbiamo voluto parlare di un serial killer ribattezzato fantasma il fantasma di Cracovia Vladislav Mazzurchievich grazie al professor Marino D'Amore ci ritroviamo ovviamente la settimana prossima ma ricordo anche l'appuntamento durante la settimana con Radio Cusano Campus quello che è speciale serial killer all'interno della storia oscura che inizia alle 16 e termina alle 17.30 intorno alle 17 il collegamento col professor D'Amore per parlare proprio di serial killer alla prossima grazie a voi alla prossima sociologo della comunicazione all'università Niccolò Cusano e criminologo il professor D'Amore io vi ricordo che la puntata subito dopo il termine di questa trasmissione odierna la trovate caricata sul canale YouTube di Cusano Italia TV quindi per chi si è perso il capitolo iniziale sul caso Iara il secondo capitolo sulle storie di Camorra Cutolo Salvia e Giancarlo Siani e magari si è collegato in ritardo per vedere la galleria degli orrori tra poco ci ritrovate sul canale YouTube di Cusano Italia TV per tutte le vostre informazioni curiosità o richieste ci potete scrivere a info chiocciola usanoitaliatv.it grazie a Federico Aielli che ha curato la regia con l'assistenza di Manuel Mazzei grazie a chi ha lavorato in post produzione Claudia Di Fonso Daniele Loda Sofia Puppo e un grazie ad Aurora Vena che ha lavorato invece in redazione ma soprattutto grazie a voi per la cortese attenzione buonanotte di Halloween a tutti una notte da paura con crimini e criminologia ci ritroviamo puntuali la settimana prossima grazie a tutti grazie a tutti